Covid, oltre 3.000 nuovi casi in Abruzzo, fazzi ancora lontano il picco dei contagi, il primario della virologia pescarese analizza l'andamento della pandemia, escalation del virus fino all'autunno. Incendio alla Pineta, indagato Masci, il sindaco di Pescara è un atto dovuto, tra le responsabilità imputate al primo cittadino la mancanza di videosorveglianza. Autostrade a 24 e a 25, la gestione resta a strada dei parchi, il Tar del Lazio accoglie il ricorso presentato in risposta alla revoca anticipata. Amichevole di lusso per il Pescara, il 24 luglio sfida a Montella e Balotelli, Teramo Calcio, sbloccate le quote dal Tribunale di Roma. Ben ritrovati con una nuova edizione del nostro Tg Abruzzo, notiziario a firma e cura della redazione di Vera TV. In primo piano l'emergenza coronavirus ha ancora elevato il numero dei contagi in Abruzzo, con oltre 3.000 nuovi positivi e purtroppo altri tre decessi. Resta molto alto il numero dei contagiati in Abruzzo, con 3.110 nuovi casi positivi al Covid registrati oggi in regione. Il bilancio dei pazienti deceduti registra purtroppo altri tre nuovi casi. Si tratta di un 87enne e di una 85enne della provincia di Chieti, mentre un terzo caso risale ai giorni scorsi ed è stato comunicato solo oggi dalla ASL, con il totale delle vittime da inizio emergenza che sale alla quota tristissima di 3.407 morti. Ci sono invece 1.377 guariti in più rispetto a ieri, in aumento anche gli attualmente positivi che sono 52.556 complessivi e 1.730 in più rispetto a ieri. Di questi, 252 pazienti più 5 sono ricoverati in ospedale in area medica, 3 numero invariato in terapia intensiva, mentre i restanti sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti in oltre 2.623 tamponi molecolari e 9.946 test antigenici, con il tasso di positività sempre alto ma che scende al 24,74%. Dei positivi di oggi, 516 sono residenti o domiciliati in provincia dell'Aquila, 1.034 in provincia di Chieti, 694 in provincia di Pescara e 642 in provincia di Teramo. Non ci sarà almeno per ora il picco dei contagi. Il professor Paolo Fazzi, primario di virologia dell'ospedale di Pescara, spiega perché invece è lecito attendersi una lente progressiva escalation del virus fino all'autunno. Non ci sarà un picco dei contagi di qui ai prossimi giorni, come poteva sembrare nelle scorse settimane. L'aumento dei contagi, che nonostante la bella stagione sta colpendo anche l'Abruzzo, potrebbe al contrario purtroppo far registrare una lenta e progressiva escalation del covid fino all'autunno. Ne ha convinto il professor Paolo Fazzi, primario di virologia dell'ospedale di Pescara, che esorta a mantenere alta la guardia e ripristinare l'uso delle mascherine, soprattutto nelle situazioni più a rischio. Il professor Paolo Fazzi si era parlato, alcuni avevano parlato, anzi per essere più precisi, di un possibile picco nel giro di qualche settimana, ma qui la sensazione è che invece si vada sempre peggio. Allora, secondo me non avremo un picco, avremo una situazione di magari lieve rialzo quotidiano, con un platò un pochettino in ascesa, perché io la penso così? Perché abbiamo un virus altamente infettante, nonostante peraltro la bella stagione. Purtroppo si è in un periodo di vacanza e quindi la gente gira di più, tra l'altro senza più l'obbligo della mascherina, che è insieme al vaccino sicuramente il presidio che più ci ha garantiti da questa infezione. Quindi se tanto mi dà tanto, perché essere, diciamo, ottimisti? Lo vorrei essere ottimista io, ma non ci sono i presupposti. Virus molto infettante, sempre meno l'uso della mascherina, addirittura si è tolto l'obbligo della mascherina. Io consiglio alla gente di continuare a tenere la mascherina, se vai in un supermercato, se vai in un mezzo pubblico, ma anche se vai in un concerto. Ci sono concerti dove ci sono aggregazioni di migliaia e migliaia di persone, per lo più giovani. Quando stai uno attaccato all'altro, a cantare pure, perché poi spesso si canta, quindi generando aerosol e particelle infettanti, è naturale che lì il virus può circolare benissimo. Quindi se tanto mi dà tanto, quest'estate sarà un'estate con il virus. Fortunatamente, e meno male, è un virus non molto patogeno. Fortunatamente i vaccini, per chi ha fatto tutte le dosi e i richiami, comunque, anche se non sono performanti al 100% nei confronti di Omicron, però riescono comunque a coprirci, purtroppo però ci fanno infettare, quindi il virus comunque circola. Incendio della Pineta d'Annunziana, è scritto nel registro degli indagati il sindaco Carlo Masci, per mancanza di videosorveglianza nella zona e misure di prevenzione. Rossella Luciani. Il sindaco di Pescara, Carlo Masci, ha ricevuto questa mattina un'informazione di garanzia nell'indagine sull'incendio della Pineta d'Annunziana, avvenuto il primo agosto dello scorso anno. Si tratta di un atto dovuto, scrive il primo cittadino in una nota, visto che sono in corso indagini per accertare le dinamiche che hanno generato l'innesco delle fiamme. Masci si dice pienamente consapevole che quando si accetta di fare il sindaco, ci si espone a moltissime responsabilità per accadimenti imprevedibili. Ma se a provocare l'incendio, in base alla ricostruzione emersa dalle indagini, furono le scintille generate dalla frenata di un treno intercity, che transitava sulla vicina linea ferroviaria, il primo cittadino secondo la procura avrebbe delle responsabilità ben precise. In particolare, si legge nell'informazione di garanzia, il sindaco non predisponeva le specifiche misure previste dalla normativa di riferimento, ovvero l'installazione di un sistema di videosorveglianza, il pattugliamento antincendio boschivo, nonché l'ordinanza volta a prevenire il rischio di incendi, misure tutte volte ad evitare l'innesco di incendi della pineta d'Annunziana, area indicata ad alto rischio boschivo nel piano comunale di protezione civile. Il rogo, che in una giornata di vento caldo e con temperatura che raggiungeva i 40 gradi ha devastato 37 ettari di riserva, sarebbe dunque avvenuto in conseguenza di tali colpose omissioni. Dall'area della ferrovia, infatti, le fiamme si propagavano poi nei terreni adiacenti, non ripuliti e quindi fitti di sterpalli e vegetazione secca anche a causa della mancata emissione della specifica ordinanza sindacale. Le fiamme raggiunsero dunque velocemente la pineta d'Annunziana, devastandola e creando pericolo per le abitazioni, così anche per le persone presenti, che venivano evacuate. Delle indagini si sono occupati i carabinieri forestali di Pescara, coordinati dal procuratore capo Giuseppe Bellelli e dal sostituto Anna Benigni. Secondo il ministro degli affari esteri e della cooperazione Luigi Di Maio, la fusione della grande Pescara va fatta in tempi brevi. Nel capoluogo adriatico, il convegno organizzato dal senatore D'Alfonso con i sindaci di Tirana e Atene. La fusione della nuova Pescara va fatta al più presto, lo ha detto il ministro degli esteri Luigi Di Maio ieri a Pescara per una giornata di incontri riferendosi al progetto di nuova Pescara. Sarà il convegno organizzato dal senatore Luciano D'Alfonso che incassa il consenso del titolare della Farnesina al progetto di una città senza confini da 200.000 abitanti che vuole allargarsi a Montesilvano e Spoltore, che può rappresentare un modello nell'area adriatico-ionica e che piace anche ai sindaci di Atene e Tirana presenti alla giornata nel comune adriatico. con il sindaco di Pescara Carlo Masci in prima fila per un progetto caldeggiato dall'amministrazione adriatica. Soddisfatto Luciano D'Alfonso al termine dell'evento. Sono molto soddisfatto perché sono venuti i protagonisti che cercavamo e la discussione è stata lanciata adeguatamente in avanti. Dobbiamo fare bene per tempo senza sbagliare. È una città senza confini. È una città progetto senza confini. L'Europa ha bisogno di questo tipo di città, di città capaci di unire, di legare, di valorizzare le prossimità. Una città che ha detto Masci dovrebbe chiamarsi Pescara. Frenano i sindaci di Spoltore e Montesilvano. La grande Pescara ha una prima deadline che è quella del 2023 che i consigli comunali possono posticipare al 2024 ma noi siamo consapevoli che una data così ravvicinata possa essere un salto nel buio e quindi stiamo invocando il rinvio di questa deadline almeno al 2027. Il fattore tempo deve essere un fattore che deve premiare questo processo e non penalizzare. E per questo motivo la posizione di Montesilvano è stata sempre intanto favorevole a condizioni che non si immortifichi i territori, che tutti i territori abbiano una dignità uguale e che soprattutto i cittadini da questa fusione abbiano davvero i vantaggi di cui si parla. E il secondo elemento è quello relativamente alla fretta che qualcuno tramite i giornali, tramite il Tantam cittadino tende in qualche modo a infondere. La fretta è cattiva consigliera, l'ho detto durante il convegno, e produce a volte effetti negativi. Il Tar del Lazio accoglie la sospensiva di strada dei parchi. La concessionaria delle autostrade di Lazio e Abruzzo a 24 e a 25 aveva infatti presentato telematicamente ieri sera un ricorso davanti al Tar in risposta alla revoca anticipata. Chiara Bonatti. Il Tar del Lazio ha accolto la sospensiva di strada dei parchi. La concessionaria delle autostrade di Lazio e Abruzzo a 24 e a 25 aveva presentato telematicamente un ricorso davanti al Tar in risposta alla revoca anticipata per inadempiezze contrattuali della concessione in scadenza nel 2030 dal Consiglio dei Ministri nella riunione di giovedì scorso. Il gruppo abruzzese Toto e i suoi legali con un documento di 94 pagine ha impugnato il decreto legge chiedendo la sospensiva adducendo diversi profili di incostituzionalità e facendo anche una proiezione economica di questa decisione che potrebbe avere conseguenze per l'intero gruppo in particolare alla luce di circa 1.700 dipendenti di cui 800 impegnati strada dei parchi. Intanto nell'ambito del complesso passaggio di consegne oggi la Commissione Ambiente del Senato ascolterà gli stessi vertici di strada dei parchi. Anche i sindaci di Lazio e Abruzzo da anni in prima linea contro il caro tariffe e la sicurezza sono a Roma per parlare con alcuni rappresentanti politici del futuro delle due arterie. Aggredito in pieno centro il consigliere Teramano Ivan Verzilli mentre era con la famiglia il consigliere ha riportato 20 giorni di prognosi ma spera che questi episodi di violenza non accadano più sottolineando l'importanza del rispetto reciproco. Aggredito sabato sera e in pieno centro durante una serata in famiglia il consigliere Ivan Verzilli da un ventunenne. Un ragazzo stava parlando al telefono aggiungendo parolaccia e bestemmi alla sua conversazione. Il consigliere ha chiesto educatamente di evitarle visto che al tavolo c'erano anche dei bambini. Di tutta risposta il ventunenne ha aggiunto tu pensa a fare il padre rivolgendosi al consigliere. Di lì il giovane si è avvicinato provocando la caduta di Verzilli che ha sbattuto la testa e ha perso i sensi. Cosa possiamo dire? I genitori mi hanno già contattato ma aspetto solamente che mi contatti il ragazzo per parlare serenamente. Questa cosa questa situazione che si è venuta a creare sicuramente capita ogni giorno. Tantissime persone in queste ore mi hanno manifestato la propria solidarietà e mi hanno riferito che accade diciamo di routine quotidianamente. Purtroppo assistiamo a un degrado sociale sempre più avanzato e di questo sicuramente dovremmo fare mea colpa nel senso che dovremmo riflettere approfonditamente. Io vorrei cercare di lanciare un messaggio positivo in questo momento che diciamo è tutt'altro positivo almeno personalisticamente parlando perché erano presenti i miei bambini. I bambini ascoltano sono delle spugne quindi il mio invito il mio appello e a livello personale è quello di parlare con i propri figli cercare di farli comprendere consapevolmente che fuori di casa fuori dalla porta di casa bisogna avere un atteggiamento tutt'altro che diciamo poco rispettoso anzi andare incontro alle persone cercare di ammorbidire stemperare le situazioni e non sfidare gli adulti. 20 giorni di prognosi quindi per il consigliere ma purtroppo scene di questo tipo non è la prima volta che accadono a Teramo in pieno centro per il consigliere però è importante far passare un messaggio ai giovani e ai genitori. Il messaggio sociale che deve uscire diciamo costruttivo è che le famiglie facciano le famiglie la scuola faccia la scuola i ragazzi facciano i ragazzi ma con il supporto delle famiglie non possiamo andare in questa deriva sociale che crea sempre più squilibrio sociale crea sempre più divario tra le persone e non ci porterà da nessuna parte. Adesso c'è un po' di paura? No, no paura no diciamo che ho fatto l'arbitro nella vita quindi sono abituato a prendere le botte quindi chiaramente ci ridiamo anche sopra perché è anche il modo giusto di reagire sulle cose. I carabinieri si sono finti fattorini di un corriere espresso per arrestare in flagranza di reato un albanese domiciliato ad Alvadriatica sequestrandogli in casa ascisce e cocaina per 10.000 euro. Alex De Palo E scacco allo spaccio di sostanze stupefacenti L'operazione State Sicura portata avanti dai carabinieri della compagnia di Alba Adriatica per garantire la tranquillità dei residenti e dei numerosi turisti che affollano le località rivierasche e vibratiane ha portato all'arresto in flagranza di reato di un albanese 34enne residente ad Alba Adriatica ritenuto il dominus dello spaccio di sostanze stupefacenti in zona. I militari che tenevano sotto osservazione l'abitazione dello straniero sono intervenuti dopo aver bloccato un acquirente tortoretano di 30 anni. Nel corso della perquisizione personale a carico del cliente è stato recuperato un involucro contenente circa 100 grammi di hashish. A questo punto era necessario trovare uno stratagemma per entrare in casa dell'albanese senza destare sospetti. I militari si sono così improvvisati i fattorini di un corriere espresso ed una volta aperta la porta è scattata la perquisizione. I militari hanno trovato nascosti in camera da letto altri 170 grammi di hashish mentre in due borracce riposte nel mobile in cucina sono spuntate circa 50 dosi termosigillate di cocaina pronte per lo spaccio del peso complessivo di 80 grammi a testimonianza della fiorente e illecita attività di spaccio da parte dell'uomo. Il giro d'affari è ritenuto sicuramente importante considerato che solo stupefacente sequestrato avrebbe fruttato sul mercato oltre 10.000 euro. Le prove schiaccianti a carico dello spacciatore hanno fatto scattare le manette ai suoi polsi. Il 34enne albanese è stato posto agli arresti domiciliari in attesa dell'udienza direttissima di convalida mentre per l'acquirente tortoretano è scattata la denuncia di detenzione a fini di spaccio oltre alla segnalazione alla prefettura per uso non terapeutico sempre di sostanze stupefacenti. Tornano totalmente fruibili i padiglioni del cimitero monumentale di Cartecchio a Teramo che erano stati chiusi per lavori di messa in sicurezza e efficientamento sismico dopo il terremoto del 2016 e del 2017. Chiara Bonanti Aperti totalmente i padiglioni del cimitero monumentale di Cartecchio a Teramo chiusi dal sisma 2016-2017 dopo anni i cittadini potranno tornare a trovare i propri cari. Abbiamo consentito la riapertura l'accessibilità a tutti i padiglioni chiusi a seguito del sisma mettendo fine ad anni di sofferenza per le famiglie che non potevano visitare i propri cari. Abbiamo restituito rispetto e dignità al luogo del rispetto attraverso un'operazione che ha superato gli errori del passato la messa in sicurezza che fu fatta allora era una messa in sicurezza puramente interdittiva noi abbiamo invece messo in campo una messa in sicurezza che di fatto è una vera prima ricostruzione probabilmente la prima all'interno del cratere sismico del centro Italia un'operazione importante per la quale ringraziamo la Teramo Ambiente ringraziamento avevamo promesso una cosa che l'ultimo 2 novembre sarebbe stato l'ultimo appunto senza poter accedere in modo pieno ai padiglioni chiusi e così è stato veramente siamo orgogliosi di questo momento si va avanti nell'attività di riqualificazione e recupero del cimitero dei cimiteri tutti abbiamo fatto realizzato sapete anche molti loculi nei cimiteri frazionali e soprattutto in un intervento di ricostruzione che è comunque ricostruzione pubblica i lavori di messa in sicurezza delle cappelle inagibili sono stati realizzati dalla Teramo Ambiente attraverso i fondi della protezione civile oggi finalmente possiamo dire che tutti i padiglioni sono stati riaperti che finalmente si può tornare a fruire di tutto il cimitero con un'operazione che è stata forse unica in Italia perché la protezione civile attraverso il commissario per la ricostruzione ha anticipato i fondi che poi il commissario per la ricostruzione ha restituito la protezione civile una messa in sicurezza che ha reso fruibile che in qualche modo diciamo ha fatto con una sola operazione due operazioni cioè quello di rendere di far tornare nuovamente fruibile i padiglioni che prima erano interbetti e cittadini devo dire che i lavori sarebbero stati molto più veloci se non ci fosse stata questa bolla speculativa sull'edilizia che in qualche modo ha rallentato proprio il reperimento dei materiali ma nello stesso tempo possiamo dirci soddisfatti perché è un risultato importante che residisce la città veramente un luogo così pieno di significato come quello del cimitero Passiamo allo sport amichevole di lusso per il Pescara che per le sue prime uscite con la nuova squadra incontrerà il prossimo 24 luglio a Palena i turchi della Dana Demirspor formazione allenata da Montella e nelle cui file gioca anche Mario Balotelli intanto la squadra prende forma Sergio Cinquino venerdì il Pescara di Alberto Colombo inizierà la sua avventura con il ritiro di Palena probabile che per la data della partenza l'allenatore Brianzolo debba rinunciare ancora a parecchi pezzi mancanti del mosaico con il quale la squadra adriatica proverà quest'anno a fare meglio della passata stagione quasi a posto per l'attacco dove Facundo Lescano ex cittadella che ha già firmato per due anni il punto di forza insieme con Luigi Cuppone dal cittadella che invece ci arriverà in prestito partirà per il ritiro anche Gennaro Borrelli che Colombo conosce bene per averlo avuto quest'anno a Monopoli dove è stato protagonista nell'ultima fase del torneo ma molto probabilmente l'attaccante sarà ceduto o utilizzato per qualche scambio bene anche la difesa dove oltre a Davide De Marino terzino sinistro della Juve Under 23 e Lorenzo Saccani acquistato dal cittadella come laterale ci sarà anche Federico Valietti lo scorso anno a Pordenone in ritardo invece il centrocampo fatta per Luca Mora contratto di un anno prende tempo Salvatore Pezzella in arrivo Giabua dall'Atalanta intanto saltata l'amichevole contro il Padova domenica 24 luglio a Palena i Biancazzurri affronteranno i turchi della Dana Derspor allenati da Vincenzo Montella e nelle cui file gioca Mario Balotelli infine è stato sorteggiato il tabellone della primavera con il Pescara allenato quest'anno non più da Pierluigi Iervese ma dal nuovo tecnico Leydian Memuschai che ha chiuso la carriera da calciatore la prima partita in Coppa della formazione retrocessa in primavera 2 si giocherà a Bologna il 19 ottobre Novità in Casa Teramo c'è stato lo sblocco delle quote da parte del Tribunale di Roma ma si deve sempre attendere la sentenza della giustizia sportiva le ultimissime in Casa Biancorossa nel servizio della nostra Giussi Cingoli Spiragli di luce sul futuro del Teramo Calcio impegnato a salvare la Serie C dopo l'esclusione comunicata dalla Coviso che ribadita dal Consiglio federale questa mattina infatti è arrivata la notizia tanto attesa che riguarda la decisione del Tribunale di Roma di sbloccare le quote di maggioranza oltre il 60% della società Biancorossa che erano state sequestrate nel novembre scorso una decisione che potrebbe imprimere una svolta al futuro del club ma bisogna sempre attendere però la decisione della giustizia sportiva la decisione del Tribunale Romano potrebbe aprire la strada a scenari diversi quale il subentro di nuovi imprenditori come per esempio Giuseppe Spinelli il quale ha sempre manifestato la volontà di dare una mano al diavolo anche se i Ciaccia hanno spesso ribadito di essere intenzionati a proseguire l'esperienza alla guida del Teramo anche in caso di conferma dell'esclusione dalla Serie C per continuare tra i dilettanti l'importante però sarà dimostrare il collegio di garanzia la continuità aziendale attraverso liquidità fresca da portare nelle casse sociali con nuovi soci Era l'ultima notizia non ci sono ulteriori aggiornamenti anche per questa edizione è tutto grazie per averci seguito buon proseguimento con le trasmissioni di Vera TV grazie a tutti grazie a tutti